Wie beset man das italienische Wort francese in Stoica? Come si traduce il termine francese in tedesco? Anche qui dipende dalla funzione che la parola francese ha in tedesco. Nel video precedente avevamo visto che per segnare gli abitanti in tedesco ci sono due possibilità. Ci sono alcune nazioni che appunto temenano in ER, come era il caso di Italiener, italiano e Schweizer, ma ce ne sono naturalmente molti altri, che sono invariati al plurale e che formano il femminile aggiungendo in adesinenza maschile ER, quindi Italiener in, e il plurale femminile si otteneva aggiungendo NEN. Ecco, in questo video ci occupiamo invece di quegli abitanti che hanno come suffisso la desinenza E. Qui abbiamo E come suffisso. Tra cui appunto anche francese, e appunto ci occupiamo in questo video. Der francese quindi fa parte di questo secondo gruppo. Ce ne sono tanti di abitanti che finiscono in E. Der brit, der chinese, der tene, der finne, il finlandese, der griche, il greco, der ire, l'irlandese, questo è un po' particolare, der pole, il polacco, der portugese, il portoghese, der russe, il russo, der schwede, lo svedese, der cieche, il cieco. Questi appunto finiscono in E al maschile. Il plurale è semplicissimo, aggiungiamo una N, quindi di britain, di pulgaren, eccetera. In questo caso di franzosen, i francesi. Ecco, per il femminile dobbiamo togliere la E, quindi facciamo der chinese, togliamo la E e diventa, aggiungendo poi in, di chinesin. Quindi qui bisogna togliere qualcosa e poi aggiungere in. Attenzione a francese, è l'unica purtroppo particolare, è di französin, quindi è irregolare perché prende anche l'umlao sulla O, quindi non franzo, ma französin. Il plurale femminile aggiungiamo come sempre N, quindi di französin, le francesi. Nadine kommt aus Frankreich. Partiamo dalla nazione. Nadine kommt aus Frankreich. Frankreich, la Francia. Anche qui, come già per la Germania, nazione neutra, ma si usa senza articolo, quindi si dice Nadine kommt aus Frankreich. Viene dalla Francia. In italiano si usa l'articolo, in tedesco non si usa, o meglio, si usa soltanto quando è in combinazione di un aggettivo. Quindi, per esempio, quando vogliamo dire la bella Francia, la suene Frankreich. La seconda, quindi, della funzione grammaticale che ha nella frase, lo tradurremo in modo diverso. Può essere un aggettivo, la cultura francese, il vino francese, può essere l'abitante, il francese, la francese, i francesi. Può essere la lingua, il francese, lingua quindi parlata in Francia. Ich mag die französische Literatur. Vedete, qui è aggettivo, französisch, quindi si deve declinare in funzione attributiva. Questa è spogliere. Pierre ist franzose, Nadine ist französin. Pierre è francese, Nadine è francese, in tedesco appunto è al maschile franzose e al femmine französin, con in, da toglierla in, ma con l'umlaut. Anche qui, come già nel video precedente, per quanto riguarda le nazionalità, quando si dice la nazionalità, appunto si omette l'articolo, si usa senza articolo. Per quanto invece riguarda la lingua, il francese sarà come l'aggettivo, ma appunto in maiuscolo. Quindi, an bocane muss ich noch französisch lernen. Il francese, quindi francese. Vediamo quindi adesso l'abitante, francese, Einwohner. Al maschile abbiamo detto, dir franzose, finisce ne. Il plurale, quindi i francesi, avremo l'aggiunta di n, di franzosen, cambiamo l'articolo evidentemente. Per il femminile dobbiamo aggiungere in, ma französin è anche irregolare, quindi prende la dirise sulla. O, quindi di französin. E per quanto riguarda il plurale, le francesi avremo di französinnen. Questo era l'abitante, maschile e femminile, al nominativo. Französisch, invece, è l'aggettivo. Ecco, anche qui abbiamo l'humlaut, come al femminile, c'è questa particolarità. L'aggettivo, di französische literatur, la literatura francese, literatur femminile. Quindi lo chiamiamo con la E, di französische. E il francese come lingua, lo scriviamo in maiuscolo, französisch, e quindi la lingua. Sie unterrichtet französisch an einem gymnasium, oder am gymnasium. Le insegna francese al liceo, o an einem, in un liceo. Vediamo ora le declinazioni della parola franzose, in tedesco, che è un po' particolare. Il maschile abbiamo detto der franzose. Ecco, vedete, der franzose. Adesso, a tutti gli altri casi, all'accusativo, al dativo, al genitivo, a tutti i plurali, invece, abbiamo questa N. Ma perché? Perché appunto si tratta di una declinazione speciale, la declinazione debole dei sostantivi. Quindi, chiamiamola anche semplicemente N-declinazione, perché finisce in N. Anche un nome che così ci permette di ricordare che bisogna sempre aggiungere questa N. Quindi, all'accusativo, al dativo, al genitivo, e a tutti i plurali, abbiamo la N. E questo capiterà con tutti i nomi, diciamo, degli abitanti di un paese che finiscono in E. Tutti i maschili che finiscono in E. Si potrebbe, diciamo, dare come regola tutte le parole maschili, soprattutto abitanti, che finiscono in E, seguono questa regola nella declinazione appunto dei casi. Si chiama declinazione debole dei sostantivi. Quindi, solo al nominativo non alla N. Per quanto riguarda invece il stemminile, c'è anche una particolarità, come avevo già detto, französin appunto ha l'umlaut, altrimenti, come vedete, è regolare. Quindi, di französin, di französin, nominativo accusativo, la francese, nominativo accusativo, alla francese, della francese, genitivo, della francese, i plurali, le francesi, nominativo appunto e accusativo, di französinen, alle francesi, dativo, den französinen, e delle francesi, vedete, della französinen. Abbiamo quindi sempre N al plurale. Vediamo ora francese come aggettivo, französisch, abbiamo anche qui l'umlaut. Meine französische Freundin kommt aus Paris, la mia amica francese viene da Parigi. Sie heißt Nadine, das ist hier der Eiffelturm. Se voglio dire il francese, il francese come nome, come lingua, dirò französisch, quindi devo mettere l'iniziale in maiuscola, è sempre l'aggettivo ma in maiuscolo, französisch. Peter kann kein französisch, Peter non sa parlare il francese, non sa scrivere, insomma. Er kann kein französisch. Ecco, ricordatevi che l'articolo non si usa con la lingua, ma se appunto abbiamo questa espressione, wir haben den text aus dem italienische ins französische, in questo caso appunto viene utilizzato, solo in questo caso speciale. Quindi per quanto riguarda la francese, partiamo dalla nazione Franca, che abbiamo visto che può essere l'abitante, der franzose, il francese, il plurale di franzose, quindi raggiunge la n, per il femminile abbiamo visto che è particolare, bisogna quindi fare attenzione all'umlaut, di französin, la francese, französinnen invece per il plurale, li francesi, e per quanto riguarda l'aggettivo französisch, anche qui abbiamo l'umlaut. Ecco, questi abitanti, quindi Denmark, quindi la Danimarca, Finlandia, Griechenland, la Griecia, Irland, Irlanda, Polen, la Polonia, Portugal, il Portogallo, ma anche Asia, che è un continente, l'Asia, Bulgaria, Bulgaria, China, la Cina, ecco anche loro hanno l'abitante che finisce in ea, il maschile, quindi dell'Aziate, della Bulgare, della Cinese, della Dene, della Fina, eccetera. Vedete, alcune sono un po' particolari, come del ire, l'irlandese, e anche il femminile a volte, e bisogna fare appunto attenzione, studiarle bene. Il femminile è sempre regolare, si toglie la i e si aggiunge in, non ci sono quelle particolari come französin, ecco, denin all'umlaut, ma là c'era già anche al maschile e anche alla nazione, quindi non è problematico. Alcune sono particolari nella lingua, per esempio, vedete, polnisch, finisce Polen, fa polnisch, cioè quell'errore tipico è di dimenticarla, ecco, non dimenticate la n, ma polnisch, ecco, alcune sono veramente da studiare bene bene. E siamo giunti al riepilogo, abbiamo visto che Francia si traduce con Frankreich, si usa naturalmente senza articolo, Nadine kommt aus Frankreich, l'articolo si usa soltanto se accompagnato da un aggettivo, come per esempio l'azione Frankreich, come era il caso dell'Italia, ma tutte le nazioni neutre si comportano in questo modo. Abbiamo visto inoltre che, per quanto riguarda gli abitanti, ci sono due possibilità, ci sono alcune nazioni che appunto prevedono questo suffisso, come era il caso dell'Italia, der Italiener, ma anche der Schweitzer, che appunto aveva un plurale invariato, ecco, mentre per quanto riguarda il francese non usa questo suffisso, ma usa appunto il suffisso e, quindi da franzose il plurale appunto prende la n, mentre il femminile bisogna togliere la e e aggiungere in, quindi di französin, è particolare appunto per questo französin, perché appunto prende l'umlaut. Per le altre invece non c'è problema, si aggiunge semplicemente la in, prima bisogna togliere la e. E per quanto riguarda appunto le declinazioni, bisogna fare attenzione perché appunto al maschile del singolare e del plurale, ad esempio del nominativo maschile, abbiamo questa n, qui avremo della franzose e poi abbiamo sempre la n, perché si chiama appunto declinazione debole sostantivo, anche detta en declinazione. Per quanto riguarda l'aggettivo francese, französisch, abbiamo anche qui l'umlaut, quindi è minuscolo, meine französische Freundin kommt aus Paris, la mia amica francese viene da Parigi. Per invece disegnare la lingua, il francese, diremo quindi französisch, useremo quindi l'aggettivo ma lo dovremmo scrivere in maiuscolo, quindi an bocanende muss ich noch französisch lernen, francese quindi come lingua. Non si usa in tedesco l'articolo, a meno che appunto siano espressioni particolari quali tradurre da una lingua all'altra, quindi wir haben den text aus dem italienischen ins französische übersetzt.